Assessore, siamo stati a Carrara, a D'Arezzo, a Groseto, insomma, questi nuovi autobus stanno arrivando veramente in tutta la Toscana? Sì, il contratto Ponte sta dando i suoi effetti, il rinnovo dei mezzi sta andando avanti. Saranno 350 quelli che entrano in servizio come nuovi mezzi tra il 2018 e il 2019. Siamo a circa 180-190, quindi ancora ne arriveranno e quindi ancora ci rivedremo, spero presto, perché l'ingresso in servizio dei mezzi nuovi significa maggior comfort, significa maggior sicurezza, significa minore impatto ambientale perché sono dei mezzi che hanno molto meno emissione rispetto a quelli vecchi che vanno a sostituire. Tutto questo fa parte della strategia per una mobilità sostenibile che la regione sta portando avanti con convinzione e con tanti investimenti. Ogni anno in Toscana si investono circa 550 milioni per garantire un trasporto pubblico locale fatto di gomma e fatto di ferro che vuole sempre di più qualificarsi perché la sfida vera è questa, cercare di creare le condizioni affinché le persone possano lasciare a casa il mezzo privato a favore invece del mezzo collettivo con una forte integrazione tra ferro, gomma, quindi il treno, la tramvia, il mezzo urbano e il mezzo extraurbano su gomma e poi la bicicletta. Tutto questo lo stiamo portando avanti e con molta convinzione in collaborazione con gli enti locali. Il fatto che anche qui nel bacino del Mugello entrino in servizio questi cinque nuovi mezzi dell'extraurbano credo che sia un segnale importante che diamo ai cittadini e non soltanto attenzione per l'urbano, non soltanto attenzione per le città ma anche per le aree interne dove il diritto alla mobilità deve essere affermato. Noi siamo profondamente convinti che un paese che vuole funzionare, una regione che vuole funzionare, ha bisogno di una mobilità che funziona e parte importante della mobilità è appunto il trasporto pubblico locale. Credo sia la strada giusta, continueremo ad investire su questo perché questo significa anche salvaguardia di occupazione di tante persone sono oltre 5.000 quelle che lavorano in questo settore. Speriamo di avere anche il prima possibile il vincitore della gara, che il contenzioso si completi e una volta che sapremo, spero da qui a fine anno, chi ha vinto la gara TPL su gomma in Toscana avremo anche l'opportunità della fornitura di altri 2.100 mezzi nuovi. Quindi stiamo andando verso il rinnovamento completo della flotta circolante.